Iscriviti al canale! Allora, demoni elementari, naga piratero, galli galli, galli galli, faccio le cose shenanigans, siete pronti agli shenanigans? C'è un po' che io non riesco, nell'ultimo periodo, a fare partite pirati, perché ho sfighe? Un'altra notte, un'altra battaglia, combatti con coraggio. Non ho metto, sto all'uno devo trovare sei elementi. Non abbiamo trovato se l'elemental. Molto, 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 molto male. Fare in real. Peggio, 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 peggio. Si potrebbe anche livellare. Che tristezza, infinita. Eh vabbè. Ecco delle nuove reclute. Daranno la tua squadra un tocco di magia in più. Maronneo. Ma che piatto semplice. Anche se faccio compio, vendo, compio. Contro le nager. Però lui c'abbia tanti pezzi in campo e mi faccia tanti danni. Però come faccio? Io quando devo fare questo? Non volevo, eh. Non volevo. Perché se avessi voluto fare questa giocata, non giocavo mozzo T1, no? Cosa buona che avrei perso in ogni caso. Paschmino e nostri uomo qui. La novità di quel servitore è palpabile. Questa è buona. No, qua secondo me sono stato molto unlucky. Cioè non ho trovato... Non ho trovato neanche un Selemental. Neanche un Mc... Un... Un Pirata Taitai. Neanche una 1-1 di quelli che mi danno pezzo. Non ho trovato assolutamente niente. Non ho trovato nulla. Delle cose che danno gold è un casino, sì. Sto giocando senza hero power. Non preoccuparti, la prossima volta ce la farei. Il rancore sopravvive al rancoroso. Ciao, Mike. Un pezzo con statistiche giganti, questo. Considerando che io ho prossimi pezzi... Da lì, devo farli arrivare. Buono. Dai, tripla. Livello tripla, trevo nomi e via. Si comincia a giocare. Sto sperando di che basti. Vedete? È un po' questo quello che volevo trovare. Lui ha livellato al 4. Se non livello adesso... Non lo faccio più. Come ci si sente ad essere l'unico tagli campione italiano della Kaizo? Ma comunque povero, umile e molto povero. Eh, certo. Beita id, Budì. Beita id. Belli, belli. Belli, belli. beli beli è pericoloso là fuori ma so che puoi cavartela interessante spot neanche la morte può fermare compeso il mio millone il bello di essere povera si apprezzano le piccole ecco le cose è così che si dice no? devo triplare ragazzi una tripla vinco la partita ma se tripla non le trovo è un casino adesso devo tagliare l'altra intanto non 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 che mi faccia particolarmente paura a sto tipo hai fatto cose sorprendenti là fuori io tripla coppia non 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 se non Il rancore sopravvive al rancoroso! Ehi, ci stava anche per due Zul, eh? Ci stava, ci stava, ci stava assai per due Zul! Nooo! 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 Non ci voleva! Ma... Comunque non vorrevo dire, ma io vi avevo detto che questa era una partita da pochi gol, è Inter-Milan! Ve l'avevo detto in inizio live, che avrei giocato Under! Qua... Budi massimo esperto! Agli elementali in do gazzo sono! Ma hai perso un coglione! Eh... Magari... Che dite? Che dite? Madonna! Certo che posso prendermene cura io! Certo! Ecco una moneta d'oro! Ecco una moneta d'oro! Vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione... Ehi... Tornosceno! 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 Peggior che mai! Ok! Dovevi incontrare il morto! Noi muore sicuro! Non devono morire in due! non bisogna avere un turno eh ma non questo lui no la moraia di elementali è imponente qui eh è incredibile che non dove sono finiti? la mia deline è incredibile la mia deline è incredibile tutti iniziano da qualche parte aiuto prendi uno di quei servitori per la tua squadra prendi uno di quei servitori per la tua squadra eh boh speriamo che sia sufficiente non so che dire ci ho piovato mi serviva un turno l'ho detto io che mi serviva un turno 54 per cento mi sa che l'ho appena preso che non ho fatto per i trade ok 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 buono 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 ci sono elementali guardate non ci sono elementali niente elementali e la botta è piccola c'è la magia buona ti meriti di meglio ecco prendi una moneta eh Sì, non è vero. Sì, inizialo da qualche parte. Una corona degna di me. Sei inarrestabile. Buono. Buono, 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 buono. Non puoi accentuare i feizzanti queste. Mi piacciono. Mi piacciono, mi piacciono. Ah, bisogna togliere il nostro pip. Hai fatto cose sorprendenti là fuori. Non vedete? Quella recluta ti darà una tripola. Contagliata. E' un problema. Certo che posso prendermene cura io. Ecco una moneta d'oro. C'è qualcosa di più bello della lealtà di questo servitore Rendiamo le cose più piccanti Senti da bene Allora ho ciò che faccio Prendete un bel respiro Quello ha un cuore puro Si capisce? Certo che posso prendermene cura io Ecco una moneta d'oro Bisogna aver togliere la Nomi qui Vediamo Madonna quella 100-100 Posso dire che non mi sono dispiaciuti sti trader Eh 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 Non mi sono piaciuti Sto eh no Lo faccio silfe Perché il più importante è Roll Secondo me In realtà non più Però Tipo qui non so Cosa è meglio Non sarà il servitore più potente sul campo Ma percepisco il suo coraggio Ci sono delle nuove reclute promettenti Non lasciartele sfuggire Un avvono diventato Mi ho accorto che costava due Il level up Quel servitore resterà con te Fino alla fine Una corona degna di me Continua così I tuoi servitori Dipendono da te Non mi piace questo Va ok Hai fatto cose sorprendenti La fuori Quel servitore resterà con te Fino alla fine Ma lui può uscire Di apparente Sì Ah questo è brutto Comunque abbiamo fatto un epico swap elementali eh Siamo stati Dignitosamente epici Prendi uno di quei servitori Per la tua squadra Ok Ok Si mette lui Si mette lui Si mette lui Si cicla e via Il problema è Chi ci fa paura Di loro No il problema è Questo è un po' scala Questo scala abbastanza Quella battaglia è andata alla grande Una corona degna di me La novità di quel servitore E' fattabile Tutti iniziano da qualche parte Ci sono delle nuove reclute promettenti Non lasciatele sfuggire Sperò ciò che faccio La novità di quel servitore Madonna che lag Sperò che posso prendermene Ecco una moneta d'oro Più o meno Ho fatto cose Un po' di robe le ho fatte Ho venduto nomi Che capisco essere un colpo basso Per voi eh Capirei la vostra indignazione Però che dobbiamo fa' Puntini Un po' di puntini Mi di merito Ci sono delle nuove reclute promettenti Non lasciatele sfuggire E io ho anche fatto Un teoria Sono pessimo invece Sono pessimo invece Tutti iniziano da qualche parte Oh finalmente Questo è ovviamente buono Questo è ovviamente buono Pezza Non ho fatto niente Di quello che dovevo Sapevo che lui sarebbe andato a scam Il clip era buono Ah ma uno dei suoi elementaloni Non è Lui va a scam Quindi I pezzi grossi Voglio non dire poco In realtà Questa è molto buona Questa è ok Questa è ok Questa è figo Ti meriti di meglio Ecco Prendi una moneta Certo che posso prendermene cura io Ecco una moneta d'oro Ci sono delle nuove reclute promettenti Non lasciatele sfuggire Ci sono delle nuove reclute promettenti Non lasciatele sfuggire Certo che posso prendermene cura io Ecco una moneta d'oro Ci sono delle nuove reclute promettenti Non lasciatele sfuggire No l'unica cosa è mettere un altro di questi Forse dovevo farlo Anche magari dargli scudo E' buono Cioè non so se ho l'ital Non ho livellato Sono al 5 Questo è nevevole Dovevo stare al 6 Ok mi serviva Blaster e foe In realtà Non so se è forte Sapete Non si è bella mazza Un'altra cosa è bella mazza Un'altra cosa è bella mazza a ver la tipa di quello? assolutamente no a ver la tipa sua secondo me segno di 80 iplo io metto blaster, lui e lui me lo smonto così ho occhio vediamo perché poi io clivo infatti non mi ha dato scudo ai pezzi che insomma diciamo che è un limite è un limite non dare veleno ai pezzi però secondo me questa era la giocata giusta ora chiaramente si poteva fare molto meglio che avevo gol di infiniti però ho vinto primo posto che se non le partite si può fare tantissimo però intanto inter milano 1 a 0 è un limite non di più Grazie a tutti.